Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 20 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Romantici e comunicativi al chiaro di luna. Luna crescente conflittuale a Marte ma armonica al vostro segno e questo è ciò che conta davvero, purché vi parli d'amore, se poi il destino lo trasformerà in amicizia o lo concluderà rapidamente con un addio, ci penserete a tempo dibito. Per oggi vi gustate il lato gioioso della vita, un bell'ambiente, un clima allegro, cose e persone piacevoli, poi cammin facendo si vedrà. Serata di batticuore ad un concerto oppure avvinti in una danza romantica momenti intensi anche con i vostri pupi, simpatico dare una festa a sorpresa per loro e i loro amici, con giochi e merendine tradizionali da tutto il mondo, ne saranno elettrizzati. E voi anche di più. Un documento scritto che può essere una lettera, un email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Inutile fare ricami mentali e voli pindarici, piantate bene i piedi per terra e siate razionali. Nel tardo pomeriggio avrete l'occasione di capire i risultati ottenuti con la razionalità della mattina. Buone perp per i nati di lunedì e sabato, potreste avere anche qualche colpo di fortuna consistente. Amore in bilico, l'incertezza sarà padrona della vostra serata. Giornata che parte allegra, anche se il pomeriggio potrebbe essere velato da qualche malinconia. Soldi o un regalo.Fascino. Se non sei uscito ieri, esci questa sera. Ci sono modi e modi di far valere le proprie ragioni, se pensate di essere nel giusto, fate valere le vostre ragioni, protestate pure, ma fatelo sempre con modi gentili e consoni ai vostri interlocutori. E da un po' che siete impulsivi. Potreste avere delle buone occasioni per avere un lavoro a tempo limitato o un secondo lavoro che vi aiuterebbe ad arrotondare. In ogni caso cercate di non sprecare le occasioni che vi si presentano in questo giorno e nei prossimi. Spiegate al partner che le vostre esigenze vanno rispettate. Non siate troppo permissivi. Oggi il cielo sembra non voglia ascoltare le vostre preghiere, soprattutto in amore venere e marte sono decisamente negativi e se ci mettete anche una luna poco raggiante. Traete da soli le conclusioni. Oggi marte vi farà sentire autentici guerrieri, avrete energie e forze per affrontare a viso aperto molte situazioni. Una in particolare potrebbe essere risolta grazie alla vostra energia. Sei commerciante e vendi prodotti agricoli, metalli o pellami? Un giorno per andare alla grande. Non lasciarti disorientare da imprevisti. Una persona amica ti aiuterà. Questa giornata di lunedì vi vede correre veloci, avendo ben strette in mano le redini della vostra vita. Sono il Sole, la Luna, Giove, Venere, Plutone e Mercurio i vostri angeli custodi, pianeti che vi forniscono notevole fermezza di polso nel gestire sia i rapporti di coppia che quelli patrimoniali e familiari. Mentre il mondo gira senza fretta, voi, anche in una giornata festiva come questa, non vi fermate mai un momento. E vi proiettate verso un avvenire che, costruite con pazienza e con l'intenzione di custodire l'affetto delle persone a voi più care. Insestire a Marte a retino e intrigono alla luna in bilancia, siete voi i mediatori nella loro contesa, che vede comunque lui vincente e lei costretta a ripiegare nelle retrovie. Così rufanno gli amici nei confronti dei vostri figli o del partner, che oggi si ritrovano in minoranza, toccherà a voi consolarli, con la vostra allegria e la chiacchiera che sdrammatizza ogni problema. Per quanto vi riguarda, buoni, cari e simpatici finché si vuole, non permetterete a alcuno di mettervi i piedi in testa, ciascuno ha diritto alle proprie opinioni, a patto che si rispettino anche quelle altrui. Amore ed Eros. In bilico tra amicizia e amore non sapete che pesci pigliare, perciò preferite astenervi dalla pesca e aspettare nuove indicazioni dalle stelle. Figli adorabili ma un filo indisciplinati, se gli amici vi fanno rimostranze non pigliatevela con loro, tirate le orecchie ai pupi. Prendete in mano la situazione in una difficoltà pratica che interessa la persona che avete accanto. La responsabilità che vi assumete vi investe in toto, ma voi, con tutta la vostra generosità, vi sentirete stimolati dai rischi e dagli eventuali ostacoli che dovrete riuscire a superare. Usando la tipica diplomazia in cui siete maestri e la capacità di conciliazione morbida, troverete il modo per aiutare e sollevare dal problema il vostro partner. Lavoro e denaro? In giro per mercatini o al centro commerciale a fare spesine o spesone. Più sportiva se avete optato per un'escursione in montagna in cerca di meravigliose fragoline di bosco per un percorso enogastronomico con chicche d'arte incluse nel pacchetto. In questo caso l'unico acquisto sarà una guida dettagliata e un paio di scarpe comode, i vostri poveri piedi cominciano già a protestare. Mercurio vostro nome tutelare, proprio nel buon vicino toro, vi aiuta nella preparazione di esami o interrogazioni per il fine anno scolastico. In special modo se siete nati della prima decade del vostro segno. Benessere. Difficile stare al passo con amici più sportivi e allenati di voi, magari anche più giovani, specie se siete in un giorno no con gli ormoni che girano per i fatti loro. L'aiutino vi proviene dalla respirazione yoga, sincronizzando il passo con il fiato e accompagnando il moto delle braccia ridurrete drasticamente la fatica, in montagna le racchettine da trekking sono un must. Per lei, felici di essere mamma e se ancora non lo siete, cominciate a pensarci seriamente, approfittate della primavera con le cicogne che ne edificano sui tetti. Sempre che ne siate davvero convinte e non perché si usa o perché le istituzioni fanno di tutto per contrastare altre scelte. Per lui, amicizia in pole position, anche se a volte gli amici vi stancano, vi irritano, vi tradiscono, siete fatti così, non sapete rinunciare alla compagnia. Colore delle emozioni, bianco rosato. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.